Popolo di internet, ben ritrovati in un nuovo video oppure benvenuti se questa è la prima volta che passate sul mio canale io sono uomo che sapeva troppo per gli amici uomo e se seguite tutti i miei video in realtà saprete che pochi minuti fa è uscito il video con la reaction al trailer di Madame Web, in realtà un po' più di pochi minuti fa, diciamo un'oretta fa ma nel giro di un'ora anche i Marvel Studios hanno voluto tirare fuori il loro trailer quindi non c'è un momento di respiro, io sto finendo delle cose, ho detto va bene, oggi non vogliono farmi fare nulla vogliono farmi solo reactare a dei trailer, ho visto il trailer di cui stiamo per parlare, cioè What If stagione 2 in arrivo il 22 dicembre, tra l'altro sembrerebbe un episodio al giorno, oppure non è ben chiaro se arrivano tutti gli episodi assieme ma Marvel ti consiglia guardatene uno al giorno così come regalo fino alla fine del mese, fino al 31 quindi immagino di dicembre, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, no 30, fino al 30, fino al 30 dicembre, giorno prima di capodanno oppure in realtà appunto ne esce veramente uno al giorno tipo calendario dell'avvento lo scopriremo, perché nella versione inglese dice che arriveranno on 22 December e invece in italiano è dal 22 dicembre, poi c'è la frase del guardatene uno al giorno, scoprine uno al giorno bisogna capire cosa intendo, vabbè dipanato questo mistero, che non l'abbiamo dipanato ma scopriremo probabilmente o con degli aggiornamenti di Marvel, oppure direttamente a dicembre, io direi che possiamo esaminare il trailer, perché? Perché è interessante, è interessante allora, allora, facciamolo partire, pronti? versione italiana ragazzo ha fatto un bel disastro ragazzo ha fatto un bel disastro, vediamo che tra l'altro c'è già una Capitan Marvel e un Ant-Man e un soldato d'inverno con un team improbabile abbiamo Pantera Nera non ha un aspetto così minaccioso e invece vediamo questo ragazzino che spacca tutto bisogna vedere chi è questo ragazzino che distrugge distrugge tutto e che come si dice, insomma sembra molto più potente di quello di quello che è il suo aspetto, ecco questo è un po' la quello che ci vogliono raccontare comunque strana squadra che dovrà affrontarlo vediamo quale sarà ciò su cui si basa intanto vediamo che c'è anche oltre Ant-Man a sinistra c'è anche quello che dovrebbe essere Golia quel Ant-Man azzurro dovrebbe essere Golia che abbiamo visto in Ant-Man and the Wasp era lui Bill Foster che doveva essere l'Ant-Man degli anni 80 poi il progetto è fallito credo che qua invece non sia andata così parte un po' di musica che pompa Marvel Studios pensate che la storia fosse finita vediamo Ela che va verso quello che è il suo copricapo quindi credo ci sia una sorta di vendetta della Dea che probabilmente non è mai stata sconfitta oppure si palesa prima vediamo è stato verso un esercito vediamo uno Yondu uno Yondu per terra e una Gamora che si toglie un casco qualcosa sui Guardiani della Galassia sembra scoprire anche di più non faccio i sequel di solito dice l'osservatore attenzione vediamo dei draghi quindi forse Shang-Chi sono complicate le cose ci sono complicate Wanda che collabora con un Asgardiano nel multiverso le cose ci sono complicate nel multiverso quindi l'osservatore in qualche modo ci dice che ci sono ancora tante cose tanti percorsi multiversali da esplorare e soprattutto forse c'è qualche problema da sistemare che potrebbe comprendere l'intero multiverso ricordiamo che nella prima stagione hanno letteralmente salvato il multiverso degli Avengers multiversali messi insieme dall'osservatore momento Sakaar questo è Sakaar il pianeta su quale ha finito Hulk in Tor Ragnarok e il famoso episodio tagliato dalla prima stagione lo vediamo qua quindi Tony Stark è finito lui su Sakaar al posto di Hulk probabilmente e non da solo perché quella mi sembrava Gamora gare cose questa è Valkyria guarda che carino questo ragazzo esatto abbiamo anche un Jeff Goldblum chissà se in originale è lui vabbè comunque il momento Sakaar quindi Iron Man cosa sarebbe successo se Iron Man fosse finito su Sakaar dal 22 dicembre quindi già c'è questa cosa del Dal poi vediamo Pantera Nera un esercito Thor che si allea con lui l'evento in 9 episodi attenzione momenti ballerini questo è Shang-Chi li avremo anche avuti su di lui ancora Yondu e Nebula quindi uno scontro fra i due Yondu che rapisce lei lei che diventa la nuova Star Lord cioè la pupilla di Yondu sto ipotizzando ecco Shang-Chi però quello è il quindi mandarino contro Asgardiani sì poi abbiamo la battaglia del Wakanda e forse attenzione avete visto c'era un lampo verde abbiamo un Capitano America che distrugge la Gemma del Tempo impedendo magari a Thanos di mandarlo indietro insomma cosa sarebbe successo se Thanos non avesse schioccato le dita quello sarebbe un motif interessante abbiamo un Urk che urla barbuto quindi anche qua bisogna capire dove ci porterà una sorta di variante medievale della Marvel quello che era un'altra poi abbiamo un po' di Gamora abbiamo un rocket decisamente più tecnologico e ecco il Dottor Strange quello che ha perso il controllo lo Strange cattivo che però era diventato uno dei vendicatori multiversali nella prima stagione ti cerco da tempo ti cerco da tempo allora questa eroina si chiama Kaori con due H Kaori ed è una una nativa americana è il primo eroe ufficialmente nuovo è fatto dalla Marvel con origini nativo americane e che in qualche modo il suo motif tra l'altro dovrebbe tipo vertere sul fatto che probabilmente è lei a creare la nazione americana cioè credo ci sia un ragionamento dietro del tipo se l'America non avesse spazzato via i nativi americani questo si vociferava magari non si lanceranno in cose così complicate a livello morale politico diciamo però c'è Dott Strange che l'ha contattata e le dici ti cercavo da tanto tempo da tanto tempo t'ho anticipato ed eccola qua nativa americana poteri inimmaginabili bisogna capire se sono poteri in grado di alterare la realtà di viaggiare nel tempo di giocare col multiverso il fatto che la contatti lo Strange un po' capo tra virgolette degli Avengers multiversali della prima stagione potrebbe farci pensare che è importante per qualcosa questa cosa mi ha fatto pensare che anche in questa seconda stagione si gli episodi saranno autoconclusivi ma magari nel finale ci sarà una sorta di doppio episodio o comunque di collante di piccola trama che in qualche modo porta avanti la narrazione del multiverso se è come per la prima stagione sono tutte cose che poi difficilmente avranno dei riscontri in live action anche se questa eroina magari potrebbe comparire in Avengers Secret Wars o comunque da qualche parte magari potrebbe arrivare in formato live action perché farla debuttare qua e tenerla qua non lo so non mi sembra una mossona però sicuramente qualcosa che rende più intrigante vedere What If la prima stagione aveva questi quattro i primi quattro episodi per me molto validi gli altri quattro si perdevano molto e il finale per me lasciava molto a desiderare con quel doppio episodio un po' un po' scritto così ecco a livello di animazioni alcuni momenti molto alti altri per me veramente bassi cioè comunque questa tecnica di animazione simile il cel shading quasi da cutscene di un videogioco con questo 3D su cui hanno spalmato i disegni 2D non è sempre super valida è ottima per questi fermi immagini come vedete molto vendibili anche diciamo al pubblico un po' più di massa che non è interessato all'animazione quindi vuole vedere solo gli eroi Marvel più fedeli possibili però a livello di animazione pura ogni tanto lascio un po' a desiderare vediamo non credo la seconda stagione cambierà drasticamente le cose però alcuni momenti carini c'erano eh sembra molto fate attenzione fate attenzione lei apre una serie di portali non sopporterei di narrare ciò che potrebbe accadere in futuro ok quindi il l'osservatore ci dice non vorrei raccontarvi quello che potrebbe succedere come se fosse una cosa brutta quindi credo darà il compito agli eroi di evitare che accada qualsiasi cosa sia la butta un po' in tragedia e qua vediamo capitan carter a più viene mostrato il logo di what if magari poi nell'originale sta mostrando qualcos'altro non ricordo se era un episodio della prima stagione quando gli presentava il multiverso forse vabbè comunque what if stagione 2 e abbiamo abbiamo il famoso episodio di natale che era stato vociferato happy hogan salva il natale e come john mcclain come bruce willis dentro il condotto d'aria che dopo ha ispirato di tutto fino alla serie metal gear solid che si ispirava anche a quello con lo strisciare nei condotti c'è un problema la torre degli avengers è sotto attacco c'è un problema gli avengers pare che non ci siano il natale lo dovrà salvare happy hogan credo sia un episodio molto così che la butta sull'ironico con citazioni vedete che tra l'altro è un po' grossino non ci passa come il come bruce willis in die hard però magari si riderà ecco questo mi sembra un episodio molto più che la butta sul ridere scopri un episodio Tony Stark ma buon Natale ogni giorno ecco questa cosa è intesa come fallo perché si tipo te li guardi uno al giorno tipo regalo di Natale o effettivamente usciranno uno ogni giorno per nove giorni di fila scopri lo vedremo lo vedremo magari lo chiariranno i rumor dicevano questa cosa il trailer parrebbe confermarla se vogliamo legarci al rumor del calendario dell'avvento anche se poi avvento non è perché dal 22 al 30 è un po' bizzarro serie in esclusiva 22 dicembre in originale dice on december 22 in italiano dal 22 dicembre e c'è questa roba del 1 al giorno non si sa non si sa trailer molto carino dunque io non sono un super fan della prima stagione di what if ve l'ho detto i primi 4 episodi erano molto carini avevamo gli avengers uccisi uno a uno c'era staccia se diventava lui star lord c'era il volendo il what if con capitan carter che diventava lei capitana america al posto di di steve c'era l'episodio bellissimo secondo me il migliore quello di strange che appunto perdeva il controllo effettivamente diventando potentissimo ma perdendo la sua umanità per salvare la sua amata di continuo senza riuscirci mai scoprendo che ci sono delle cose dei punti nel tempo che non possono essere modificati un concetto interessante che poi in realtà a quanto pare la marvel nei film ha deciso di ignorare completamente ve l'ho detto che what if se la calcolano un po' poco poi però gli altri episodi li avevo trovati mediocri o persino bruttini se non noiosi io mi ricordo quello di del cattivo di black panther che era veramente noioso che salvava tony stark mamma mia la serie veramente tracollava party tour no 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 la seconda metà di what if io l'avevo trovata veramente bruttarella la prima no magari qua siamo più sul livello dei primi episodi quello di happy oggan sarà qualcosa di divertente credo che alcuni saranno più tragici altri molto più ironici e poi vediamo se ci sarà questo strano collante slash finale di stagione con kaori e questa nuova supereroina e capire magari se avrà qualche tipo di importanza multiversale direi che non ho molto altro da dire anche what if arrivando a dicembre sarà l'argomento di cui chiacchiereremo ogni tanto nelle live anche su twitch quindi venite a trovarmi anche su twitch sotto in descrizione nel video trovate il link per venire sul mio canale iscrivetevi anche lì chiacchieriamo venite live perché è bello leggere tutti i vostri commenti scambiarci un po' di opinioni trovate sempre in descrizione video tra l'altro alcuni modi per supportare il canale tipo il link per insidecollector.com che è il negozio con cui collaboro se scrivete uomo avete il 5% di sconto su tutto ci sono fumetti omnibus roba della marvel manga le carte di one piece i funko pop c'è di tutto e quello che non c'è se lo chiedete via mail gli scrivete una mail se è ancora disponibile ve lo ordinano 5% scrivendo uomo se invece volete le magliette nerd che ogni tanto indosso non come questa che è completamente nera ma ce ne ho alcune molto molto fighe le potete trovare su nerdostore.com 15% di sconto su tutto se scrivete uomo guardate la maglietta di magikarp cotto che ho indossato in qualche video e che ancora indosserò veramente fighissima quindi fate un giro ai link che trovate qua sotto tutti i modi per sostenere anche il mio lavoro fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se ci sono degli episodi che aspettate di più o di meno cosa ne pensate della vecchia stagione di what if e parliamone chiacchieriamone nei commenti e anche live vi aspetto su twitch mi raccomando basta fatemi sapere la vostra e ci vediamo a un prossimo video speriamo che almeno per oggi di trailer non ne escano più perché insomma o niente o tutto Marvel ogni tanto fa così beh però sono Sony MCU non si sono messe d'accordo o forse l'MCU appena visto uscire il trailer di Madame Web ha detto buttiamo fuori i what if per rompere un po' le palle i nostri amici di Sony le leggi del mercato vabbè vabbè fatemi sapere la vostra e ci vediamo alla prossima ciao ciao